Champions League, tre partite, tre vittorie, per Corso Netto, questa sera c'erano evidentemente dei diversi valori tecnici in campo, ma vincere 3-0 non è mai scontato? No, specie per questa squadra. Noi dobbiamo iniziare a pensare a vincere. Il bel gioco c'è a momenti e a momenti no, in momenti ci adattiamo al ritmo come è successo con il Club Italia. Ci sono dei momenti in cui di là c'è un poco ritmo e noi non riusciamo a mettere la quinta, la terza, chiamatela come volete. Resta il fatto però che bisogna anche iniziare a pensare che in un girone comunque non semplicissimo, specie per le condizioni in cui siamo arrivati ad approcciare questo girone qua di Champions, in questo momento siamo a tre vittorie, perché abbiamo dimostrato che in Polonia comunque non è semplice giocare, l'ha dimostrato Conegliano oggi. E Baku è sempre una mina vagante, nel senso che probabilmente i valori tecnici sono diversi, questo è fuori discussione, è inutile dire falsità. Però è sempre una partita dove il ritmo può calare, ci può essere uno strascico di quello che era la situazione precedente. A noi oggi interessava vincere, vincere con il massimo scarto possibile, così è stato. Il terzo set siamo calati, ci siamo un attimino rilassati, soprattutto nelle varie pause che ci sono state in questa partita, sono state tante. Però questo era l'obiettivo, quindi bene così, noi dobbiamo pensare per quanto riguarda il capitolo Champions, che dobbiamo arrivare alla partita di Conegliano con quattro vittorie, il che sarebbe una cosa molto positiva, perché non bisogna dimenticarci che comunque stiamo affrontando un girone non semplicissimo. Parliamo evidentemente subito di campionato, arriva Scandicci, c'è quell'ottavo posto, da lasciarsi un po' le spalle, da risalire, ma come no? Cos'è che ti dà maggior fiducia e cos'è invece che ancora non vedi che ti piace? Allora, se io non avessi fiducia difficilmente avrei a parlare, perché dovrei dire cose banali, scontate, che non è proprio il mio modo di essere. Cosa mi preoccupa? Tantissime cose, perché siamo una squadra che va a corrente alterna, e ci sono performance che stanno crescendo da un lato, altre che calano, giocando tanto devo anche testare situazioni diverse, perché dopo il mio periodo di rodaggio è finito e di conseguenza bisogna che c'è una reazione istantanea nel momento in cui un set non va, perché può starci tranquillamente, lo stanno dimostrando anche le altre squadre, per se non sembra solo che Modena fa male da questo punto di vista qua. Noi abbiamo sprecato due situazioni ottime per poter rientrare anche nella componente campionato. Ho parlato ieri con le ragazze, con le ragazze ci siamo dati un obiettivo personale, per quanto riguarda il discorso della regular season, ma soprattutto quello di cercare di dare continuità al nostro gioco. Non è semplicissimo farlo, sì, perché dirlo è bello, no? Farlo non è facile, però in questo momento qua noi dobbiamo, ho la fortuna di avere la possibilità di farle riposare un giorno e di preparare bene la partita, perché la squadra ha bisogno di organizzazione, ordine tecnico-tattica e cercando di essere un pochino più ordinate rispetto per esempio oggi che contro la numeretta abbiamo fatto una fatica importante e notevole.